Il lockdown ha comportato una constatazione dei propri limiti e ha fatto sì che la normalità divenisse il più grande dei desideri, senza tralasciare le varie teorie complottiste sull'esistenza del Covid-19. Diventa importante rivalorizzare i propri canoni di comportamento, ristabilendo il nostro equilibrio psicofisico, che è andato perso in un periodo buio per la società contemporanea. Noi fino a prima della pandemia eravamo abituati ad avere un'idea un po' onnipotente della realtà. Potevamo tutto, potevamo incontrare di tutto. Poi è successo qualche cosa che ci ha messo in discussione nella nostra capacità non solo di autodeterminazione, ma di previsione della realtà. Il dottor Gesualdo poi ha invitato le istituzioni pubbliche a potenziare i servizi di psicologia sul territorio, scrivendo una lettera a tre delle autorità fondamentali della Regione Puglia, rispettivamente Michele Emiliano, Presidente della Regione, Antonio Nunziante, Vicepresidente e Pino Romano, Presidente Commissione Salute. L'ultimo appello poi è quello di costruire il futuro partendo da tre basi, lo sviluppo, l'istruzione e ovviamente la salute. Io ritengo che le basi su cui dobbiamo e possiamo costruire il nostro futuro sono tre. Sono a parte lo sviluppo chiaramente, poi c'è l'istruzione e la salute. Noi dobbiamo secondo me investire in questi tre aspetti e non ultimo anche la sostenibilità ambientale perché su queste basi si può costruire un futuro migliore di un passato non proprio esaltante.